La mostra di Luigi Malice Capacità di dire e di far sentire, cioè di produrre e trasmettere sensazioni. Ed è la spiegazione che Malice stesso dà del suo modulo artistico in una presentazione atipica, a modo di intervista a se stesso, per concludere che l'arte è e deve essere essenzialmente in mezzo di comunicazione. Un magma disordinato, dice, di fatti presenti o di memorie, di sentimenti e ragioni, laddove la mente raccoglie, setaccia e il colore racconta. Che poi la percezione non sia la stessa è questo l'elemento tipico della forza in sé dell'arte. Grazie! 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 Grazie!